Io spero, anche se sicuro, e vi lo chiedo qui in pubblico, di avere la possibilità di avere un colloquio breve, un colloquio privato con la Secretaria dell'Avventura per dire quanto la nostra disponibilità sia grande in questo e quanto voi dovete rendervi conto che dovete aiutare, vedo che avete dato la vostra disponibilità, ad aiutarci in costruire questa realtà che ha una grandissima potenzialità nel futuro. Vi ripeto, siamo qui non per divertirci, siamo qui per godere della ospitalità di San Marino, di questo straordinario posto, ma soprattutto per lavorare con serietà. E sappiamo quanto questo sia difficile, sappiamo che faremo qualche sbaglio, perdonateci per questo, ma la storia ha dimostrato che tanti grandi cantanti non hanno vinto i concorsi ai quali hanno partecipato. Poi sta alla loro capacità, alla loro completezza di artista a smentirci e saremo anche contenti di essere smentiti, ma noi abbiamo tutta la nostra coscienza e la nostra competenza.